Conto alla rovescia per il passaggio della 1000 Miglia a Teramo, centro storico blindato domani fin dalle 9 del mattino per dare modo all'organizzazione di completare tutto per l'ora di pranzo quando le prime autovetture arriveranno in centro in città. Il consiglio è arrivare per tempo in città, occupare gli spazi che si spera saranno sufficienti o comunque saranno abbastanza comodi perché avremo delle tribune, avremo parecchio spazio in tutte le zone del centro storico e occupare quanto più spazio possibile naturalmente con un po' di anticipo. E in Piazza Martiri della Libertà spunteranno anche delle tribune. Saranno delle tribune in Piazza Martiri allestite a modi di coppa in Teramnia, aperte al pubblico, solo una piccolissima porzione sarà riservata per esigenze estrettamente organizzative, quindi si cercherà di non creare nessun fastidio, anzi creare la migliore accoglienza possibile per coloro che arriveranno. Nel frattempo inizieranno una serie di iniziative collaterali collegate poi a quello che accadrà dopo la fine della Mille Miglia, speriamo che il salotto buono di Teramo possa rispondere come si deve. Tutta la città godrà del passaggio della Mille Miglia a Teramo con un percorso in parte diverso rispetto a quello dello scorso anno e tra le novità il pit stop a Porta Madonna per la distribuzione ai partecipanti di un kit pranzo preparato col contributo dell'Istituto Alberghiero di Poppa. Il percorso impegnerà via Lebovio in arrivo da Ascoli Piceno, piazza Garibaldi, corso San Giorgio, piazza Martiri, corso De Michetti fino alla sede dell'automobile club, poi da lì attraverso Porta Melatina, attraversamento di piazza San Francesco, il ponte, via Po fino all'incrocio con via Pannella, via Pannella, la stazione, il corteo risalirà verso largo Porta Madonna, quindi l'area del tribunale e del santuario che sono impegnate per la distribuzione di uno snack, quindi una piccola sosta per rifociliare gli equipaggi che poi da lì attraverso il viale rientreranno in centro storico, quindi rientreranno in corso De Michetti, via Savini, l'anfiteatro, via Veneto e Corso Porta Romana che verrà affrontato in senso contrario rispetto al normale senso di marcia. Grazie.